Buona notte e buon finito in un'altra edizione e buon finito in un diálogo a metà Caccio e De Castro. Voi t'abbè che la sorpresa è, non c'è una persona che ha sicuramente 8 o 9 luni che non si senta qui non, 7 o 8 o 9 luni che non si senta qui non, e la vai a Cairo. Vai a Cairo, 7 diferentes paesi del Middle-Ostern, con un'altra banda del planeta, e la mia vita è un po' più grande per conto di noi, di esperienze anche della Tiana, e la differenza della cultura. Per me come introdusivo, penso un po' di chi, però per me come introdusivo, mi ha avuto anche una risponsor, se mi permette. Per come sapere che c'è una risposta in Rodeo House of Ribs, se mi permette di un'altra cosa è che il mondo è per bisogno di un'altra cosa, se mi ricordi un buffet, se mi permette di un prezzo che ha un'all you can eat buffet, se mi permette di un'happy hour di riuscirci, se mi permette di musica, con Lucio Carelli e il signor Bingheli quando ci hanno un bingo, ognuno non si vede e non si vede il chino gratis. Forno è un menù che non è gratis. Ok? Quindi si chiama naturalmente 4659465 oppure si chiama con persone di un bisacchia, ora voi chiama con un taccaccio e vi savo che voi chiama per trovare una riservazione, una botagna, un bebita gratis. Quando si chiama Marm Antotrons, lo savi che Steven Gibbs è il proprietario e ti mi serve un will, mi sta pidiando a chi tu vai, ti mi vado dicendo a chi chi va, però che tu vai a prendere un will di Kittoki, passate con la sua nuova, di un'espansione che sta facendo, il cammino da ti è toro, meccanico, tambi vuoi andare a parte di un restaurante con bar, ma ci sono buoni, non andano con vista, tambi possiamo andare a prendere in Hopi Glass. Se vuoi avere un will, si chiama Steven, 4659465. Questa è un Marmer, Francisco Viana. Cultura Marmer che non sta conoscendo, l'intera cultura non è di antes, ma non è. Quindi vorrei vedere un termine da conoscendo, che ho conoscendo come un disegno di franzasico, come un'imposte, come un'imposte, come un banno, come un bar, come un'acqua, come un'imposte, come un'imposte. E anche questo è un'imposte che vorrei come la pietra di Duoport, Eta zaje, corte, pulire, mescocco di marmer. Francisco Viana 5100005. Adoro mo' papi con i abicemi, mando un abrazo, perdame. Francisco si botò tendiendo un combinamento in algo. Goisco, One Stop Shop, 7373333. Briante a Cairo, va a che cumpra. Non solamente cumpra cosa vor, però in Lugata c'è una grande, c'è una tanta cosa, c'è una varietà, come va a che cumpra fin di semana, fin di luna, quincenna, whatever. Joelle Goiz. Ora bo dèi un comité pa di tante. Dai en bò taga i fai bo cajita d'ai un software, ten a bo plasma, ten tv, bo frisidèl, bo stof, bo tent, bo barbecue pit, etc., 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 etc. Don Corleone Pizza 46233333. Non t'as un delivery, non t'os i te ding es tafdistrict, che mi ronzate gà bimpeding, bò taga ieri dìng binos, come in ora, di ora bò llama, che va llama, ma dopo aver guardato la pizza con un pito di un'auto per prendere la pizza 462333 e non c'è un'offerta con 8 di augustus che si voi prendere un pizza mediano con 2 slices di garlic bread, con un bottone di coca-cola di 20 oz, per prendere il sticcio di 19.95 questa è la pizza, Don Corleone Pizza, è un'offerta special di l'acchita cava di 8 di augustus prossimo che va un bottone, un siman e qualcosa di più, per prendere il uso di 19.95, un pizza mediano, un tappi, 2 slices di garlic bread, più un bottone di coca-cola di 20 oz, per prendere il di un'offerta di 8 di augustus prossimo, e poi il Toro Saloon Steakhouse. E poi il Toro Saloon Steakhouse, c'è un'offerta di varie di nuovo, Rodeo House of Ribs, Curacao Marmar, con una pietra di Newport, Gauzco, con una espansione e poi il Toro è in un Steak House, quando vuoi servire il lunch. Fuori di un'ora e mei di mei inti, ci sono un'ora e mei? Tengo 3 ore a tardi. L'intero menù completo è available per il lunch. Più il salad bar. Ho piaciuto, sicuramente. Non ti mani sempre di vista. E il pepper steak. Più lo chiamo che? Merdia. Ti ho messo ancora con una botella di noce? Una botella di merdia. Più due o tre cose speciali, extra, come il porpini. Ora i miei giornali e and women, Allora la gente passa con una b非常 di litio. � ora non si vai per i invitati, voi apunta a voi a Stekin, Stekin a viajan in un ultimo tempo, come voi conosce, se non mi sape, 6 lunas, 7 lunas del intermedio oriente, 7 paesi andò, e sta con noi, sr. Stanley Brown, sr. Brown, un buoni dir, un orgullo di voi ne faccio una persona che ha ancora con non te ne conoscemi. Amit e Stelny Brown. Buon pezzi e buon brucia, non dicci. Sono caraventata con Amit, dicendo l'azzi, Amit e Stelny Brown. Well, Stelny, mi ti e' contento con te e mi ti anima un buon binit, mi ti e' una buon binit a mella vostra signora, Anna-Marie, qui è una studio in cui conosco. Welcome back to the island and to'em bella e studio naturalmente Anna-Marie. Un'altra cosa è che noi stavamo aiutami per comprensare la Maria per andare a vivere con te conosci? Beh, un po' è così bello! Sì, non c'è una hydra. Quando ti ho trovato con me, ti ho studiato. Stiamo in sette luna, sette paesi. Quindi ho trovato un grande grande artefacto, prima di una messa, ho trovato un bottero che ho trovato, secondo me ho trovato una bebida, però ho trovato un'acrania di Giacomo, un'acrania, un'ascolpione. La donna, la donna di farmi entrando con i bebi? Un'acrania di bebi. Mi le spiegiare? Mi ripetim-mi un po' di attrazione per vedere immittilandini, se viaggiare qui, che ho trovato un po' di attrazione? Che cosa ti ho trovato? Mi ha comitato di Campografia, mi ha comitato di Vietnams, la donna di Arana, mi ha comitato di Röps, Sì, sì, sì. Ma come cacalaca. Are you serious? Culebra, sì, sì. È una duchi. È una duchi. È una duchi. È una duchi. A raton di notte ha un secreto grande. Può dire che non è buono. La maggioranza delle persone non è durmi, mi può contare il secreto di raton di notte. Dì, ma un slato. Però, you're serious? That's serious? Sì, 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 sì. Ratton di notte. Mi ti un portretto con me. E rups. Ratton di notte, per esempio, vende una vietnama cantica minna. Come un snack. Vende una raton di notte. Vende una tappa. Vende una tappa. Vende una molina. Placé. Vende una grelia. Vende una canna di un saco. Vende una raton. Come un saco. Vende una raton di una grelia. Una raton. Vende una marcia, come un saco. Vende una chenica. Vende una 10 raton, non deppi di quanto pagare. Vende una raton dici. Vende una raton di un saco. e l'acqua ha fatto sexo con l'hombre, e l'acqua mati l'hombre. E l'acqua come l'hombre, e l'acqua come l'hombre. E' un po' di venganza. Venganza, machismo. E' un po' di tarantula. E' un po' di aranha completo. E' un po' di griglia. 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 flavors sul fascinale. bis sisters di re Erores, diccele, che parlava eurores? Rèpes, troppo anche. Bici, bici! Bici! Bibiina un canto, da birra, barbeletta despera. Rải barbeletta. E io, mi compro il mio sacco e allora si fanno molto bene. E io mi dico come a me pagare il mio popolo, senza dirglanzarsi come ando. E io gli gli ho saputo, allora disse, io mi dico io cio questa cosa e dico, io devo fai a me comprare e mi dico. E io dico perché ho saputo in il sacco. Ero e straordinario? non c'è un caccio, ma non c'è un caccio, ma non c'è un caccio. In Libra si è un caccio. Per il normale? In Camboggia è molto, molto normale. In Vietnam è anche. In un restaurant, non c'è come, in un restaurant, non c'è un sope, un grill, un washi, ma non c'è un po' di turno. In marcia, non c'è un snack. Si, mi potrebbe dire, non c'è un sottile, mi dovessi essere più importante in Venezia, non lo so, ma non c'è un po' di, ma non c'è unadremo, ma non-è un po' di attività ma non c'è un po' di, attività, ma non c'è altro, ma non c'è anche un caccio, ma non c'è un po' di, ma non c'è anche un po' di, ma non c'è un caccio. una ma barata, mi te vai con un convoy, mi te vai con un taxi, mi te busca un metro tanto hotel, non è una ma barata, ti ho hotel, mi te lo gano qui per 3 dollari, in generale è un paese molto più barato, mi te contavo un cuento, però il nostro travel arriva a livello di studiante, vota topo, ho più studiante, che non ti ho più meno 5 uomini, a me comprare quando non è buono paramo, è affordable, lo che non sta gasta nel corso, paluna, la nostra sera, la nostra casa, la nostra vita è pagata con l'usca con il nostro gasto normal, il nostro gasto, il nostro gasto, nel nostro paese è sobra, un esempio, in Vietnano, in Hanoi, mi ha un spa, non mi non mi pensi a fare un spa, un spa costa 300, 400, 1000 dollari per giorno, mi ha detto, mi ha un spa, è molto buono, molto buono, è un luogo, in generale, molto buono, va spagna, un luogo caliente, non si che quattro estrella cuo air condizionamento e 24 ore si buque cuo barca ma io e se dimbo camera cu desayuno possa quando vota pagava dia amico mi signora jaccio 25$. 25$. 25$. Quanto florino? Sei, Tapa Luna? 25 florino? 50$. 50 di aula con luce, casi non è bichangelo. Ti metto un trimmero, entra conoscere, che cosa che c'è ancora? In un paese tanto caro, un paese che è proprio caro. Sì. Normalmente, in tutti i locali, Filippini, Vietnami, Camboggia, Indi, noi viviamo in un paese hotel per la notte, entre 10 e 15$. Quindi, io ho, mio padre, c'è una camera, che è una camera, più ergo. 15$. Per il tempo, in un paese, per il tempo, i più i luci, non? Perché, i più i luci, i luci, quando i luci, i luci, Noi, sai, non mi capito. Quanto c'è parlare da me, quando ho arrivato da studenti, quando ho messo con Loni Planners, da stanno con Loni Planners, e gli pensi che siano, ok, Loni Planners è il bibio, un ruzzo di ture. Ok, però, come che con l'evelle? Loni Planners, da un boccio. Ok. In quanto paese, non si comprati, non si stai stappi. Lonely Planners? Si, planos. Ok, ok. Invece, è più negativo, è proprio vero, è un bèbel. Tutti studianti, non ti senti che non sovetevi per prima, è questa cosa che abbiamo fatto, quattro hotel, quattro metri, quattro metri, un po' inizio, un po' inizio, e che cosa è, però, è inizio, cultura, museo, tutto ciò che costano qui. Quindi noi ci sono stati 15 dollari, e ci sono stati 30 dollari, 30 dollari. Quindi la differenza è... La differenza è che ci sono stati grandi, che ci sono stati grandi, perché ci sono stati in una casa, ci sono stati in una casa, e ci sono stati in una casa. La differenza è. E per il standard di 5 dollari, un hotel è distingue? C'è una classe. C'è un hotel di 1000 dollari, anche per curare l'Olanda, non lo so. E poi andiamo in Africa, non so, andiamo in Africa l'anno passato, come un esempio, ho un hotel con montavete e ne prezzi, non come lavoratore, non come gas, non come politico solo, per dire. Ok. ... 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 spiega shane mille benanni sani una venezuela da but it's a dilante costa venezuela buona da nada this but a bisona papasocompa you and a con visione di cuba come una maniera questione in carribe e non conosce a cuba bombo not the amistad con cuba minera bobbisa nantava but the cuba but i'm party you got this you're from cuba your brother come ti aiutano con il cambiamento di exchange programma non è un paese comunista non te confiamo deep down I hate America non è un paese non è un paese 5 mila città americano non ha bombardato 4 mila 4 cent e poi il guerra è 6 cent e l'ultimo dia l'Americano non ha treccato perché c'è un helicóptero arriva a passare potrezzare non è un paese non è un paese per bombardare Hanoi 24 euro per dia 24 euro per dia 24 euro per dia 24 euro per l'argo 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 l'americano non lo ha nulla che vengono da Kibre Kibre non ti menta, è funzionato mancaron per funzionare ma c'era un riccio di Brugge ma due a me come interesse pira mi diceva, cosa consta in Brugge? mi ha lavorato con Pide Brugge ma si no mi ha detto che mi ha fatto un riccio ma c'era un piccio ma c'era un piccio mi tiene ingelesto a me casa ma bella mi lato, mi ha interesse o la gamba è un telastro cordiale non, la gamba, la gamba è un segno mi capisce Stanley, ma tu hai un riccio speciale tu hai visto come vai Paffo no, ma vai che è da largo fino a qui ma è che ti diceva del passato che aveva sì e non ti ho visto un po' come Bini, cercami dei studi che non senti qualche anno ti aveva avuto e mi diceva, non c'è nessuno non c'è nessuno problemi tra quante cose ti hai fatto ok e non ti ho visto che cosa ti ho visto come Bini e avventura non è però sai che se non ti ho permesso non mi raccomando fuori di alcuni commerciali conosci in un pubblico Stanley Brown tra i nostri invitati se non siano ti ho visto che c'è non si sta pure ma sta continuando diciamo la sua opinione arriva di politica attuale del nostro paese però antes ti ho un cantidad di cose incluso ecco qui che c'è nessuno c'è nessuno di cose che c'è nessuno Noste in pupuntretta, quinto bebè. Ando se veste a me bevele. Voi veste a me bevele. Si voi vuoi andare a me vuoto a nosi due? No. Ma se va a tracere. I'll stick to my water. Anna Maria, vuoi andare a me provele? Ora mi contava che vuoi andare a me vuoto. Voi andare a me vuoto. Ok. Queda con noi. Noste vi back con Stanley Brown. Il telefono da Abrì. Tambi ora vi back. Quattro, sei, treze. Seis, uno, uno, uno. Quattro, sei, treze. Seis, uno, uno, uno. Noste vi back con this. Quattro è un nenne e aperto. Quattro, sei, treze. Que sei! Quattro, sei, treze! Quattro! Quattro, sei, treze! for di un suculento bufè variato che viene happy hour for di 5 te con che tor e, già sabrà, live music con Lucho Carrelli e Julio Minghelli Pavo Ocasione Especial manera cumpleaños o aniversario nos tiene un detalle ma che bonita Pavo e un costo seguro servizio da Rodeo House of Rips tu il dia sta miglior nos mes ta supera nos mes Rodeo House of Rips a da Strada Superstore con su campagna Paquita Sombri a da Strada Superstore con su campagna Paquita Sombri a da Strada Bomecerta e o orco Cels di Gana Volkswagen 2007 Novo Novo a cada compra di 25 florini poter esibito un lote a da Strada Superstore con su campagna Paquita Sombri a la Polonia a orco C bito Novo 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 a la Polonia 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 Grazie a tutti. 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 Non è solo un video, ma sta irendo. Si, si, si. Te solo non sarei tanto per trovo? Mi c'estete Gangas. E' un video che non attrava, ma non è un video. Non ti piaceva con le impie, non ti piaceva che dava il diritto. E' nota che mi sa, amico, è nota sia tutto il libero. No, è stato buonissimo, no? È quello che più influenzato, più grande in India è il Pupu. Tu cammini nel Pupu, non lo sai. È il Pupu del Rio L'Abrì, quando hai il Pupu del Drip, tu cammini. Anche io andando da Pompil, andando lì vieno attra l'acqua, è il Pupu. Ok, è stato italiano? È stato Varanasi, Varanasi, cammino nel centro, no? Sì, non è stato un ceremonio, tutta la notte c'è, non è stato un ceremonio, ma è il Dio di Rio. Tutta la notte. E' stato un ceremonio, non è stato un ceremonio, non è? Ok, la che non si mette qui? Sì, la che mi mette qui? Sì, la che mi mette qui? Mi mette un can, un uomo francese, mi non ti ricordo, mi ne la paga, non è? E mi ha detto, i want to get out, i want to get out. E mi ha detto, io, i can't get out. No, no. Non c'è un can? No ma non c'è, non c'è il can? Ma no, un can? È un can? Nessun can dire, ieri i vietcans. Mi hanno detto, io ho invece. Ok, è meglio, ma è questo, non è stato un ceremonio, è il musterto, ma è un museo. Non c'è un sito, non c'è un museo, non c'è. Mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi ha detto, mi hanno detto, «I want to get out, mi ha detto, non c'è, non c'è, non c'è. Ora, per comprenderlo, che ci sono passati, che vivi un po' di anni lungo nella tienda. E per esempio, per fare un'herbe di banchetto, si, per fare un'atremismo. Non c'è un'hospital, non c'è un'atremismo, non c'è un'atremismo, non c'è un'atremismo, non c'è un'atremismo. Ora, ma sai che è così, tu so da, tu ansiare, tu hai un'atremismo, che c'è un'atremismo grande, che c'è un'atremismo grande, che c'è un'atremismo grande, e signora, mi dice, and this is what helped us to win from the Americans. Mi dice, ah, buong. Mi dice, can I taste it? Mi dice, ah, buong, mi dice bacillano, ma vete colèbra, ma vete scorpione, ma vete cacala, e mi dice, ah, you want to taste? La, come un'atremismo, come un'atremismo, come un'atremismo, come un'atremismo grande, quando si dice, ah, che succede, no, non, bebevo! 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 Bebevo, bebevo! Ero magù un'atremismo grande, ma cumiteni l'atremismo. Edo aque? Edo aque? Edo aque? Alcoo, 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 prevato medicina. Questa è una cosa che si cura la lomba, non c'è una cosa che si cura il coraggio. Ma si cura il coraggio... Ma si, ma si che c'è un attore sexual, ma di ratoni di nocci si è un mas. Ma sexual? Ma, si. Ma potenza... Si, si. Se si, come è la tua, anche se si è un buono, ma non c'è un buono... ...è un buono, è un uomo, è un buono che si... ...è un buono di nocci, quindi se faccio un buono di nocci, il tuo cento o in batalla a Pedrini? Toca! Ma poi havo un exodo, un mese che viene una grande cosa che viajava. Sannick, mi voglio non insegnare che non si cumple con un compromesso commerciale. Ti avrei che hai? NADA, questa è una pipa di opium. Opium? Si. In batalla, si sono andati a canticare, si non hanno avuto. In questo caso, il cliente ti passa, Poi mettere un po' di tobacco qui dentro. Poi accendere. Allora, 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 allora. Mi noto va impuntrare così. Mi noto va impuntrare. Non mi sapeva. Non mi sapeva. Ok. Stanny Brown. E' la padella anche. Ok. Stanny Brown. Tenta junto con noi. Annamarie, sua signora. Tambi dentro del studio. Rimbe besa. Nostra veta. Sapato di cartone. Nostra veta. Nostra veta. Nostra veta. Nostra veta. Nostra veta. Nostra veta. Seng. Alemmarie. Pagina di cincaria. Nostra veta. Tela. Un pop chico. Tram music. Un solo. Nostra veta. Nostra veta si non s'porani. Informazione. Nostra veta si? Nostra veta si non s'porani. Nostra veta. Nostra veta. Nostra veta si non s'porani in batta onetina ass informazione. Queda con nos. Nostra in sante un ratito mas. Ma si te queda ton 10 minuti mas o mentes. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.